Quali sono le migliori evoluzioni di FC25 in questo momento? Avevamo già avanzato alcune idee nel video precedente delle evoluzioni di inizio gioco ma ormai ne sono uscite parecchie altre. Ho aspettato un attimo a farvi uscire un video perché secondo me la cosa più intelligente da fare non è fare tutte le evoluzioni appena escono ma tante volte tenerle da parte e aspettare successive evoluzioni. Perché vi dico questo? Perché molto spesso un'evoluzione non è utile quando esce ma è utile quando esce un'altra da combinare con la prima e ne vedremo un esempio alla fine. Le ultime evoluzioni uscite sono il grande Guti che è un interessante upgrade ai centrocampisti. Abbiamo rallenta, attacco forzato, le notti magiche che è anche qua interessante come upgrade per gli attaccanti e ovviamente asso del dribbling che va a potenziare di più 7 il dribbling più 5 velocità. Vi faccio un esempio, attacco rinforzato va a aumentare solamente determinate statistiche difensive che preso così a caso magari in questo momento può essere veramente poco interessante. Stessa cosa per esempio rallenta che magari ci va a aumentare la velocità e il tiro di giocatori che ad oggi non utilizzeremmo comunque ma che magari a un certo punto del gioco saranno molto interessanti a combinare con alcune altre evoluzioni che potrebbero uscire quindi magari inseriamo prima all'interno di attacco forzato qualcosa che poi da attacco forzato andrà a rallenta e combinando queste due evoluzioni ne uscirà una carta ancora più forte. Ora questo era un esempio a caso non solo le due evoluzioni corrette nel corso di questo video invece vedrete delle evoluzioni che hanno ricevuto un upgrade molto maggiore grazie alla concatenazione, alla combinazione di più evoluzioni. Torniamo però all'obiettivo di questo video parliamo di quelle che secondo me sono le evoluzioni più interessanti che sono uscite in questo periodo. Partiamo da notti magiche che è veramente molto interessante chiaramente a determinati limiti come possiamo vedere il massimo di overall il minimo di overall quindi deve essere un giocatore tra 75 e 83 la massima velocità che può avere è 93 il fisico massimo 80 massimo 7 stili di gioco e deve essere attaccante grazie a questa qua che costa 50k crediti o solo 800 FC points chiaramente vanno bene entrambe le istituzioni se scegliete il giocatore giusto vi andrà a potenziare notevolmente l'attaccante infatti qua vediamo per esempio questo Gabriel Jesus che in realtà è anche molto interessante ora vi faccio vedere quelle che secondo me sono le soluzioni più interessanti iniziamo da Marcus Rashford è uno di quelli che secondo me anche se non riceve l'upgrade di velocità rimane tremendamente interessante perché Marcus Rashford è già un 5-3 quindi skill di assoluto livello come ruoli c'ha Advanced Forward Plus quindi attaccante avanzato plus come playstyle ha il power shot plus di conseguenza in questo modo possiamo sfruttare il fake power shot che è molto molto interessante c'ha il tecnico, ha il quick step e anche il trivela di conseguenza un giocatore assolutamente meta che già nella versione base è molto interessante ma rispetto alla versione base guadagna davvero tanto soprattutto nella fase finalizzativa dove diventa un 85 invece di un 80 guadagna 6 in potenza tiro diventando 99 quindi tira delle mine allucinanti guadagna 5 in posizionamento offensivo che fa la differenza perché vuol dire che quando si tratta di fare gol lui è nella posizione giusta poi guadagna 85 poi diventano 85 anche i tiri al volo che ogni tanto può essere utile ha 90 nei rigori poi guadagna comunque nei passaggi che male non fa perché comunque può capitare di dover impostare con lui e nella versione 81 era veramente storto e guadagna qualcosina anche a livello di stamina che anche qui non fa male perché era un giocatore che si stancava velocemente fisicità e anche elevazione potete giocarlo o con finalizzatore diventando quindi questa carta qui o alternativamente con cacciatore se volete farlo correre di più e renderlo ancora più forte in fase finalizzativa vedete che cosa diventa e poi chissà che magari a un certo punto sarà combinabile con qualche altra evoluzione per la liga secondo me quello più interessante è Angel Correa anche qua chiaramente il costo è quello che è l'abbiamo visto prima Correa è una carta veramente forte perché comunque lui in game l'abbiamo visto anche ieri nel video delle squadre da 100.000 crediti è una carta assolutamente economica e che si presta molto bene per le ibride recuperatelo ma ciò che piace molto a noi è che con questa evoluzione lui passa davvero da essere un giocatore da starter squad da essere un giocatore di livello perché prende più 4 in velocità in tiro più 3 in passaggio e più 4 in fisico in questo modo diventa mediamente 89 tra posizionamento offensivo e finalizzazione diventando quindi molto affidabile in fase finalizzativa corre di più l'agilità è 90 quindi con 89 equilibrio e anche un body type che lo rende comunque fisicamente più forte di quello che leggiamo è un giocatore sia difficile a spostare sia veloce sia agile sia bravo a finalizzare oltre che è forte di testa e questa probabilmente è la miglior soluzione che abbiamo perché poi giocato con cacciatore lui diventa un giocatore veramente senza alcun senso perché diventa un 98 97 tra accelerazione velocità scatto con 97 e finalizzazione altra carta pazzesca con l'upgrade è Malen perché lui non migliora la velocità però gli va a migliorare di brutto il tiro perché prende un più 5 nella maggior parte di statistica e gli migliora la finalizzazione in particolare anche lui la resistenza che un po' ne aveva bisogno e il passaggio in questo modo diventa un finalizzatore pazzesco già è ultra veloce lui c'è una velocità in game che è devastante il 93 accelerazione col suo body type e le sue animazioni personalizzate si sentono tutte infatti è un tipo di giocatore che in game rende tantissimo una sorta di R9 poi come ruolo lui c'ha l'advanced forward plus anche qua abbiamo anche il pocher che vi devo dire questo qua anche lo giocate con chiaramente cacciatore e diventa 99 accelerazione 94 di scatto un finalizzatore senza senso e a parte fisicamente si muove bene questo è un attaccante da fine gioco in più c'ha 600 diversi tipi di ruoli che gli permettono di poter giocare in tante posizioni ma pur rimanendo all'interno di questa evoluzione parliamo di una prima evoluzione combinata per esempio per chi se dovesse essere tenuto l'evoluzione Ultimate Edition questo Endric finalmente può raggiungere una versione molto interessante quindi lo mettereste prima nelle notti magiche e poi da lì nell'evoluzione Ultimate Edition raggiungendo una versione veramente valida perché così diventa un ottimo giocatore perché diventa veloce ha una buona agilità di conseguenza le movenze migliorano di molto tira delle belle botte è un buon finalizzatore fisicamente valido è forte di testa chiaramente non è un giocatore definitivo sarebbe più per divertirsi è interessante anche che guadagna chiaramente il Power Shot Plus chiaramente guadagna anche lui come ruoli Advanced Forward e Potcher Plus quindi attaccante avanzato e anche lui chiaramente da giocare o con Cacciatore che gli permette di diventare una versione veramente OP o ancora meglio può essere giocato anche con motore migliorandogli quindi equilibrio dribbling velocità ma anche un po' di passaggio perché secondo me ne può valere la pena l'altra evoluzione di cui si è parlato particolarmente in questo periodo è il grande Guti evoluzione che è sicuramente non economica 65 K di costo come crediti o 1200 FC points qua vediamo l'esempio Joe Ellington che andrà a guadagnare 6 di velocità perché arriva a K 10 di tiro 9 di passaggio dribbling difese fisico rimangono uguali perché sono a K abbiamo giocatore che deve essere massimo 82 con massimo 84 di velocità massimo 7 stili di gioco e 0 numero di ruoli plus plus e qua potete vedere alcune delle robe che guadagna man mano chiaramente avendo tiro di precisione sarebbe interessante inserirlo all'interno di un giocatore che è un po' più offensivo però ci sono secondo me dei centocampista considerabili qualora vi possano tornare utili ma questo è uno di quei casi dove potrebbe aver senso tenerla da parte e aspettare future evoluzioni per vedere come concatenarlo con giocatori più adeguati ai tipi di stile di gioco che vi regala Joe Ellington secondo me ne vale la pena nonostante comunque abbia dei grossi limiti perché agilità e equilibrio sono quelli che sono sicuramente guadagnando in posizionamento offensivo e finalizzazione quando sale farà un po' meglio al tiro giro adesso difensivamente fisicamente era già forte passaggio migliore di gran lunga diventa estremamente più veloce diventando un centrocampista direi box to box molto molto valido lo potete giocare in vari modi chiaramente più difensivamente lo giochereste con ombra o alternativamente se lo volete un pochino più offensivo potreste chiaramente dargli un bel motore che guadagna almeno un po' più nelle movenze e nell'impostazione dipende come lo volete usare parlando di giocatori semi offensivi ma pur sempre difensivi abbiamo Renders che è un centrocampista più da avanzata chiaramente non è un centrocampista definitivo un giocatore che se non fate ci perdete chissà che chiaramente con questa evoluzione diventa un giocatore valido e rimane una delle migliori opzioni difensivamente valido chiaramente guadagna in tiro velocità di conseguenza in fase offensiva diventa più interessante oltre che è un passaggio validissimo e con chiaramente il playstyle che va a guadagnare ovvero il passaggio incisivo al ping and pass diventa in fase di impostazione molto più interessante avrà il tiro a giro che associato al tiro dalla distanza gli permetterà delle volte di cercare dei tiri da giro dalla trequare il dribbling non è impressionante perché poi è un tipo di giocatore non propriamente agile come leggiamo perché non è proprio leggerissimo però secondo me nell'insieme di queste statistiche può essere un centrocampista ad avanzata interessante che per una serie A può funzionare però comunque considerato il costo non so se comunque per ora farei questa evoluzione e per darvi comunque un'altra opzione sempre concatenando e combinando più evoluzioni per esempio possiamo trovare questo Loftus Chic che dopo averlo messo nelle introduzioni ai limiti statistici lo potete mettere nel Great Goody e col doppio upgrade diventa questa carta qui non è così lontano dalla carta precedente perché nelle prime statistiche è particolarmente simile è un pochino meno agile un pochino più pesante più forte difensivamente meno bravo che so con i tiri al volo e con alcune caratteristiche in termini anche di velocità e movenze sono simili ma diversi ma non so e probabilmente quella che è la più interessante di tutti è questo che sì che per chi come ho visto il video ieri ha impostato magari una lega araba potrebbe essere interessato perché questo chi sì chiaramente è forte fisicamente e nel resto le statistiche aveva bisogno minimo di upgrade aumentandogli un po' di tiro passaggio e dribbling diventa molto più completo e giocandolo chiaramente con ombra diventa un mediano un box to box un centrocampista che aiuta in entrambe le fasi sicuramente molto più interessante ma anche qui non so anche qui io per adesso questa evoluzione non la farei queste sono probabilmente le migliori opzioni che abbiamo a disposizione nei limiti delle evoluzioni finora che ci hanno dato in futuro potrebbero darci qualcosa di più interessante quindi attenderei per sfruttarlo combinandole parlando invece di quello che vi dicevo all'inizio quando si attende e poi possiamo combinare più evoluzioni sono arrivato a una carta che secondo me è davvero devastante ovvero parliamo di Timothy Weah questa carta deve passare da 600 diverse evoluzioni perché parte da essere un argentone viene messo nell'intro ai limiti statistici da lì lo bluttiamo dentro a club member reward e poi da lì lo dobbiamo andare a mettere dentro il cannoniere e alla fine di tutto ciò otteniamo con due evoluzioni gratuite una che costa 50k 750 FC points una carta davvero devastante perché questo giocatore qua ha 99 di agilità 92-94 c'è la zia vegeta scatto lui già è un giocatore di base veloce e questo lo fa rendere ancora di più 85 di forza fisica 87 di resistenza 98 di elevazione con una statistica media difensiva di assoluto rispetto è bravo il giusto in fase offensiva tra tiro e passaggio abbastanza tecnico ha 4 di skill come ruoli come terzino destro abbiamo il falso difensore plus plus o l'attacchi wing back plus e lo possiamo giocare sia come terzino che come esterno che come ala destra a destra in serie A può fare 52 ruoli dove abbiamo grande carenza di conseguenza a meno che avete maicon come terzino o che ne so avete qualcuno a destra che ora mi sfugge lui per una serie A è un giocatore veramente incredibile e non solo lui è perfetto per andare a linkare il campionato femminile statunitense per poter giocare con la Osho Ale e fare un'ibrida davvero senza senso quindi niente spero che queste carte vi siano tornate utili come esempi mi raccomando intelligentemente scegliete sempre quali fare e quali no e noi ci vediamo ragazzi col video di domani perché da domani partiranno tre tutorial molto importanti quindi iscrivetevi mi raccomando lasciate un commento scrivetemi cosa ne pensate recuperate i video precedenti anche negli short vi porto le review dei giocatori non perdetevi nulla grazie a tutti